Siamo con le vincitrici del doppio allievi B2 femminile, Sannio Bosa, Chiara Gai, Ludovica Cossu. Da una premiazione all'altra dovremmo già essere pronti. E allora noi ci prepariamo. Foto ufficiale. Iniziate a portare già le medaglie ragazze. Due oro, due argento e due bronzo. Foto ufficiale. Invito il presidente del comitato a rimanere qui. Ragazze, solo una battuta volante per farci dire qual è stato il momento più bello di questa gara. La fine, come siamo arrivati prima. Vi aspettavate di vincere? No. Il momento più difficile invece? L'arrivo. Siete state molto bravi. Una bella medaglia d'oro vi dobbiamo lasciare perché abbiamo già un'altra premiazione. Forza Sannio Bosa! Forza Sannio Bosa!